Musica Buongiorno, bentrovati, buon sabato mattina, benvenuti all'ultima la segna stampa della settimana Dopodiché ci rivedremo lunedì mattina E allora guardiamo Previsioni del Tempo e Santo del Giorno e poi affrontiamo le pagine dei giornali in edizione locale Naturalmente quelle che sfogliamo noi di Carlino e Corriere Adriatico Oggi sabato 23 settembre, un santo amatissimo da moltissima gente, da tantissimi italiani San Pio da Pietralcina, Padre Pio per tutti Allora il sole è sorto alle 6.56 e tramonterà alle 19.01 Previsioni del Tempo Oggi è una giornata all'insegna del sereno o del poco nuvoloso Senza precipitazioni, le temperature leggermente in aumento Ma domani il tempo cambia un po' radicalmente Inizialmente poco nuvoloso, però poi si intensifica la copertura durante la mattinata E arrivano anche le piogge dalle ore centrali della giornata in poi Da deboli anche a maggiormente diffuse e anche a carattere di rovescio e temporale E le temperature, come è immaginabile che sia, caleranno Lunedì è ancora peggio, almeno sulla carta, secondo la protezione civile delle Marche Che ci regala questa bella cartina abbastanza eloquente, molto eloquente Fulmini e pioggia su tutta la regione Quindi nuvoloso, nubi cumuliformi, grande copertura anche nel pomeriggio Però in diminuzione nelle ore serali, rovesci e temporali E questo è il tempo che ci aspetta nel fine settimana e come inizio della settimana prossima Partiamo dal resto del Carlino, la pagina di apertura, quella che contiene i lanci Vediamo in alto, si parla di bonifiche Bonifiche che riguardano sia Pesaro che Fano Due siti diversi, ma forse accumunati dagli stessi problemi Dopo gli allarmi sul degrado, all'ex Ang si pulisce tutto La ditta ha anche ultimato la bonifica E ha riportato la terra per sistemare l'area Sostituiremo il velo strappato, soddisfatti i cittadini Cosa invece leggermente diversa, o forse all'inizio di quello che è stato il percorso invece di Pesaro Per la nostra area di bonifica, ovvero sia all'ex Agip Perché sono state trovate infiltrazioni di idrocarburi Dopo la vediamo anche nell'articolo di Anna Marchetti Ma la fotonotizia è tutta per i blitz delle forze dell'ordine Con cani antidroga davanti alle scuole, in particolare al Mengaroni E poi il prefetto che rilancia i concetti di integrazione migranti Si va verso la terza fase E poi a Urbino il neurochirurgo e giornalista Gupta Ritira domani il Press Award Allora eccola qua, ve ne abbiamo dato conto anche noi ieri nel telegiornale Si è scoperto, dopo qualche domanda e qualche giro di telefonate Si è scoperto il perché, insomma questo sito e il cantiere sono fermi C'è stato uno sversamento, quindi c'è un allarme inquinamento Perché in uno dei vasconi due sono stati coperti L'ultimo invece non è stato chiuso perché ci sono delle infiltrazioni di idrocarburi Che sono arrivati oltre i 4 metri che è lo scavo iniziale Quindi probabilmente a profondità più elevate, 6 metri E quindi adesso si attendono le analisi dell'ARPAM Che dovranno confermare i dati E quindi poi dopo bisognerà capire che tipo di intervento, come e quando farlo Quindi i tempi per vedere quest'area completamente riqualificata Vedete qui nel tondo tutto il cantiere interessato Qui c'è via Cavour Qui c'è la strada che porta all'ospedale Insomma questo è il sito Ancora per vedere che cosa sarà Bisogna aspettare un po' E poi altri temi caldi per il comune sono la Duomo GPA E quindi a chi affidare la riscossione dei tributi E il Lodo Serafini che arriveranno in consiglio la prossima settimana Lodo Serafini che è una batosta di 850 mila euro per il comune Che dovrà versare all'azienda Serafini Avendo perso il ricorso in corte d'appello Storie di fede Don Stefano Betti Sarà lunedì a casa Santa Marta Per i 60 anni di sacerdozio Mi regalo una messa con il Papa Vedete qui un'immagine di Don Stefano Betti Ancora dalle pagine però che riguardano Pesaro Lancio in apertura Eccolo qua l'articolo Mengaroni La polizia sguinzaglia i cani Trovato un 17enne con 10 grammi di droga Ieri mattina all'ingresso c'erano le pattuglie cinofine E quindi che hanno utilizzato questa metodica Per scovare e trovare droga negli zaineti O addosso agli studenti E insomma questa operazione è andata a buon fine Perché è stato trovato un 17enne con 10 grammi di marijuana L'ultima pagina che vi propongo del resto del Carlino Per quanto riguarda appunto la cronaca Migranti si va verso il patto sociale Ieri c'è stato il tavolo di concertazione in prefettura Tutti i soggetti naturalmente coinvolti in questo disegno E anche insomma si è proposta anche la creazione di un osservatorio locale Pizzi però il prefetto ci va duro con i sindacati Scorretto rendere pubblica la lettera Le verifiche di controlli sui centri sono quotidiane E ferrei questo è il pensiero del prefetto Cambiamo testata andiamo al corriere adriatico Anche qui c'è l'attenzione E l'articolo che riguarda la polizia Che arriva davanti alle scuole con i cani in assetto antidroga E poi però a centro pagina si parla di sport Pattinaggio e atletica I due ori delle marche Truffa il PM cambia idea e chiede all'archiviazione Si parla di una struttura di Fano Nell'articolo del Corriere Adriatico L'extraspa non si ferma all'alt poi Ed è inseguito e bloccato dai carabinieri Questa è una di cronaca E allora vediamo le pagine interne Il prefetto Pizzi appunto cerca di fare un tavolo di concertazione Ieri ce n'è stato uno per vedere di trovare una soluzione E mettere tutti d'accordo Nasce quindi l'osservatorio dell'accoglienza Servirà per monitorare gli immigrati che escono dalle strutture Ma i controlli non serviranno Non saranno facili Quindi bisognerà monitorarli Vedere cosa fanno, dove vanno E la regione però diserta l'incontro in prefettura Pizzi contro i 13 sindacati E gli taccia di comportamento scorretto Malcomune Mezzogaudio Viene da dire così Oppure tutto il mondo è paese Diciamo anche questa La fiera dei detti popolari Perché anche a Pesaro Come vi abbiamo fatto vedere Tante volte anche noi qui a Fano Insomma si lascia di tutto Davanti alle discariche Qui siamo in Baia Flaminia Vedete poltrona Materassi Giochi, i bambini Insomma chi più ne ha Più ne mette E marche, molti servizi Replica ai condomini Isola a metà ottobre Ora il porta a porta Isola naturalmente Isola ecologica E dopo Rimaniamo a Pesaro Però parliamo di Di forze dell'ordine A Pesaro dopo il cambio Al vertice del comando provinciale Arriva anche il Comando Della compagnia di Pesaro A dirigerlo Sarà per i prossimi anni Una donna Una donna sola al comando Titola il Corriere Adriatico Naturalmente al comando Della compagnia di Carabinieri È il maggiore Patrizia Gentili Per Pesaro è una novità assoluta Eccola qua La vedete nell'incontro Ieri c'è stato l'incontro Con la stampa Maggiore Già a 35 anni Una carriera militare Partita all'accademia E fino adesso Ha ricoperto Cariche di grande prestigio Come anche il picchietto d'onore In piazza Interforza In piazza San Pietro Davanti al Papa Nei momenti di celebrazione Di commemorazione Un incarico di grande prestigio Bene Un grande E ancora grosso In bocca al lupo Al maggiore Per il lavoro Che l'attende Da parte di Fano TV E di tutta la redazione A Fano A Fano Per il Corriere Adriatico In primo piano C'è il piano Delle piste ciclabili Ma per ora È fatto di Monconi Perché ci sono Tutti questi Pezzetti Che vanno raccordati Tra di loro E appunto Il comune Deve collegare I vari tratti Per formare Una rete Molti però Ci sono gli ostacoli E insomma Si vedrà Adesso nel 2018 Dovremmo già avere Qualche cosa Di più concreto Vengono messe in pratica Le pianificazioni Grazie al piano IT Nuove strutture Si svilupperanno Per le direttrici Verso il centro Da nord A sud E poi Manutenzioni Stanziati 300.000 euro Che serviranno Per strade Per verde pubblico E anche Per la messa In Miso in forma Di alcuni Edifici Di proprietà Pubblica La truffa Della Extra Spa Eccola qua Il PM Cambia idea E chiede L'archiviazione Dell'indagine Per l'accusa È infondata La notizia Di reato A carico Di Gianluca Santorelli Barnesi Zaffini E Giancarli Eccola qua Ve la do Perché è una bella notizia Anche insomma Che riguarda Fano È partita Adriatica Da Genova Dal Solone della Nautica Adriatica È la barca Di turisti per caso Di Patrizio Loversi Però in questo caso Servirà a parlare Per tutta Italia E attirare l'attenzione Sulla sindrome Di Williams Adriatica Che circunnavigherà Tutta la penisola Da Genova Fino a Trieste E in ogni porto Sono una ventina Mi sembrano I porti che toccherà Si fermerà E parlerà Con conferenze Con dibattiti Di questa sindrome Nella Val Cesano Strade dissestate E pericolose La provincia Deve intervenire Lo chiede appunto L'osservatorio Delle terre roveresche La situazione È insostenibile Ad ogni pioggia Le condizioni Meteorischio Sono veramente Un acquitrino Più che delle strade Questo è quello Che dicono E chiedono Dall'osservatorio Poi parte Insomma La prima Delle fiere Del tartufo Fiera Del tartufo Bianco Arte cucine Bronzi dorati Promossi con il tartufo Ed ecco Qui vedete Un po' di esemplari Tutto questo Ci sarà A Pergola Per la prossima edizione La ventiduesima edizione Della fiera nazionale Del tartufo Bianco Pregiato Quindi se volete Le primizie del tartufo Andate a Pergola Perché insomma Lì Si aprono Le danze Per i cultori Di questo Frutto della terra Senigallia L'ultima pagina Che vi faccio vedere Si parla di cimiteri I loculi Non hanno ancora L'agibilità La barra La barra Resta Parcheggiata In chiesa La burocrazia Brocca la tumulazione Dopo il funerale E la vedova È come immaginabile Che sia Indignata Con dolore E rabbia Dentro di sé Il cimitero Insomma In questione Quello di Montignano I nuovi spazi Non si possono Ancora Utilizzare Bene Questa era L'ultima pagina Che vi facevo vedere Per quanto riguardava La pagina Di Senigallia Grazie per essere stati In mia compagnia Per quest'ultima Rassegna stampa Occhio giornali Torna lunedì mattina Puntualmente Alle 7.30 Buon fine settimana Tempo permettendo A tutti voi Arrivederci Grazie a tutti